Buonasera, buonasera a tutti. Il terzo appuntamento del forum sul turismo religioso nelle Marche, che ha come oggetto meditazione e pellegrinaggio in luoghi di fede e spiritualità, si tiene qui ad Abbadia di Fiastra. È un percorso iniziato ieri pomeriggio al monastero di Fontavellana con il convegno ed è proseguito questa mattina con la suggestiva cornice nella Valle del Sasso, dell'inaugurazione di Valle Remita, questa porziuncola marchigiana che è tornata a splendere dopo un lavoro di restauro durato pochissimo tempo e che ha visto relativamente poco il tempo che è servito. Una volta tanto, Presidente, diamoci pure qualche merito perché in effetti abbiamo impiegato fondi regionali e fondi comunitari per ridare alla nostra comunità quello che è considerato il cuore del francescanesimo marchigiano. Questa sera ad Abbadia di Fiastra teniamo un workshop internazionale sui cammini lauretani. È un appuntamento molto importante perché farà un po' il punto sulla programmazione di questo importante progetto, che è un progetto che non si limita soltanto ad inserire la via lauretana tra gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Sappiamo che questo riconoscimento da parte del Consiglio d'Europa è sicuramente un atto estremamente importante perché qualifica ulteriormente la nostra offerta turistica e culturale, ma si estende anche a tutta la rete dei cammini lauretani. In questo coniugando un obiettivo strategico fortemente voluto dal Governo regionale durante questa legislatura che è stato quello di declinare l'offerta turistica da un lato attraverso i cluster, quindi non si parla più di turismo ma dei tanti turismi e dei sette cluster che sono stati individuati, grande rilievo ed importanza viene dato al cluster della spiritualità e della meditazione. Questa mattina il Presidente ha sottolineato come il 26% del turismo che arriva qui nelle Marche è un turismo dedito a questo settore e come di questi ben l'81% è rappresentato da stranieri, quindi è una fonte importante quella che abbiamo sul nostro territorio, è una potenzialità notevole, distribuita che dobbiamo assolutamente mettere a sistema e la mettiamo a sistema con l'altro grande obiettivo strategico che il Governo regionale si è dato nella legislatura attuale che è quello di qualificare l'offerta turistica attraverso la creazione dei distretti culturali. Dall'intreccio dei cluster del turismo e del distretto culturale voluto dall'altro nascerà sicuramente una regione più moderna, più capace di interpretare un'offerta adeguata al passo con i tempi e soprattutto sapremo offrire della nostra regione il meglio per quanto riguarda l'accoglienza. Il nostro patrimonio culturale sia quello religioso che quello che appartiene alle nostre comunità civiche è un patrimonio esteso, diffuso. Noi possiamo vantare dall'offerta del rinascimento con Urbino a tanti percorsi, a tanti itinerari nel nostro territorio, ma se come stiamo facendo ci focalizziamo e ci specializziamo su determinati segmenti sicuramente la nostra proposta, la nostra offerta turistica e culturale sarà sicuramente un'offerta turistica e culturale vincente. Questo per rispondere anche a un altro obiettivo strategico che l'amministrazione regionale ha posto sin dall'inizio, quello di fare della cultura e del turismo il secondo volano di sviluppo regionale. La nostra è una regione storicamente caratterizzata dalle manifatture che rappresentano il motore, il cuore della nostra economia. Accanto a questo ci stiamo rendendo conto che non basta più soltanto la manifattura, anche se gli interventi sulla ricerca, sulla tecnologia, sull'innovazione sono costanti e la spinta del governo regionale in questa direzione è forte, abbiamo bisogno di riqualificare il nostro territorio attraverso questo secondo volano di sviluppo economico che può essere dato veramente dalla felice coniugazione tra territorio, arte, cultura, eccellenze e prodotti che abbiamo sul nostro territorio. Quindi se da un lato il progetto della via lauretana è sicuramente un progetto vincente, un progetto storicamente vincente e rappresenta una risposta estremamente qualificata alla domanda internazionale che si ha di questi settori, dall'altro anche ragionare, come facciamo questa sera, sull'estendere questa iniziativa ad una rete dei cammini lauretani che interessi tutta la regione, che in qualche modo interconnetta sul modello del distretto culturale evoluto tutte le potenzialità che abbiamo nel nostro territorio può essere sicuramente una offerta vincente e soprattutto può essere anche una scommessa soprattutto verso le nuove generazioni che più di ogni altra in questo momento soffrono il bisogno del lavoro e lo sapete che la disoccupazione qualificata, quella che esce, noi abbiamo delle università nel nostro territorio regionale che sfornano dei laureati di grande valore, abbiamo delle facoltà umanistiche che veramente immettono sul mercato ogni anno dei giovani che hanno grandi capacità. Ecco, questa potrebbe essere una risposta non è ovviamente esaustiva di tutti i problemi ma sicuramente che va in quella direzione. Di queste cose parleremo questa sera, io non mi dilungo ulteriormente, volevo farvi una comunicazione più precisa e puntuale sul distretto culturale evoluto ma di queste cose, credo, avremo anche tante altre occasioni per parlare. Questa sera ci vogliamo soprattutto confrontare su questi temi, su queste possibilità, su queste potenzialità progettuali che abbiamo che possono veramente declinare al meglio un progetto strategico come quello che ci siamo posti. Quindi diamo inizio ai lavori della serata, ringrazio il Presidente Gian Mario Spacca che sin dall'inizio starà con noi, poi ad un certo punto dei lavori gli chiederemo di intervenire, anche perché sicuramente il suo contributo alimenterà, sarà un contributo molto positivo al dibattito. A questo punto, seguendo la scaletta che ci siamo dati del programma, io darei la parola per il saluto iniziale al Sindaco del Comune di Tolentino, nonché Presidente dell'Associazione della Via Lauretana, Giuseppe Pezzanesi. Prego Sindaco. Bene, grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Benvenuti in questa splendida oasi di bellezza naturalistica come la Badia di Fiastra che è sul nostro territorio e che mi riempie il cuore ogni qualvolta posso venire da queste parti e riposarmi un attimo, il che accade molto raramente. Oggi è un giorno molto importante e prima di farvi il mio saluto in qualità di Sindaco della città di Tolentino e di Presidente della Via Lauretana vorrei salutare gli ospiti prestigiosi che noi oggi abbiamo qui con noi e che ci accompagnano in questo inizio di cammino ufficialmente. Cammino non a caso pronunciato da me perché poi capirete i cammini lauretani, la Via Lauretana e tutto il resto. Quindi saluto il Presidente della Regione, il Governatore Gian Mario Spacca che ci onora della sua presenza e che devo dire vorremmo sempre sui nostri territori per tanti motivi ma i suoi impegni sono talmente grandi che molte volte non riesce fisicamente ad esserci così vicino come vorremmo ma ci assiste dalla Regione. Poi saluto naturalmente Sua Eccellenza il Vescovo che è qui con noi, Sua Eccellenza il Prefetto che è qui con noi e naturalmente tutte le autorità militari e civili presenti delegati della Regione Marche specificatamente gli uffici che hanno seguito con noi questo sviluppo appunto della Via Lauretana, dei cammini lauretani e non solo ma questi tre giorni favolosi che sono cominciati con Fonte Avellana e Valle Remita e poi oggi la Badia di Fiastra e domani terminerà questo percorso a Loreto, un percorso di presentazione. Poi ringrazio e saluto i rappresentanti della Fondazione Mastro Cola e l'Avvocato Simone Longhi e il Dottor Giuseppe Uccero insomma i rappresentanti della CEI il Dottor Mario Lusec insomma tutti coloro e anche coloro che dimentico compresi naturalmente i nostri uffici del Comune, l'Assessore al Turismo l'Assessore delegato alla Cultura e il Presidente della Provincia di Macerata e l'Assessore alla Cultura Dottor Bianchini e tutti i sindaci che ringrazio con tutto il cuore che fanno parte della via lauretana che hanno creduto in questo percorso di fede e di spiritualità e non solo ma anche e soprattutto di rilancio del nostro territorio che è bellissimo e che si incastona perfettamente nei sentimenti di fede e di spiritualità perché la fede e la spiritualità vengono prima ancora di tutto il resto ma poi nel creato di Dio nella sua bellezza si trova anche la risposta alla fede e alla spiritualità quindi tutto ciò che ci circonda è meraviglioso le potenzialità del nostro territorio sono indiscusse i santi che ci hanno preceduto e tutte le espressioni di fede e di nostro Signore che sono presenti sul nostro territorio ci hanno protetto sino ad oggi e ci tendono la mano e ci dicono di usare laddove è possibile ancora più giudizio e più intelletto per far sì che tutte queste bellezze che sono state guida per i nostri avi per i nostri genitori per i nostri nonni hanno dato un senso alla loro vita ecco non vengano disperse ma vengano valorizzate quindi un ringraziamento particolare anche da parte dell'amministrazione a tutti gli operatori che oggi sono qui presenti per quanto riguarda appunto il turismo e il cammino di fede che io mi auguro diventi fin da subito un cammino di fede paritetico ad altri di livello assoluto di livello europeo affinché i nostri territori e come diceva prima dottor Rossetti che mi ha preceduto i nostri giovani possano integrarsi in questo cammino di fede e di spiritualità e possano trovare anche delle risposte per la loro vita che non è solo di fede e spiritualità ma anche di lavoro e di professionalità quindi io credo che in questo percorso della via lauretana della Madonna di Loreto che parte da Roma fino ad arrivare a San Francesco d'Assisi e poi a tutto il resto delle realtà che noi abbiamo delle ricchezze artistiche architettoniche storiche del nostro territorio possano giovare anche al rilancio del territorio stesso e a dare una risposta ai giovani che hanno io dico sempre una grande sensibilità interna una grande predisposizione non è vero che le nuove generazioni sono peggiori delle altre le nuove generazioni sono fantastiche sono addirittura più preparate più proiettate verso il futuro ma hanno bisogno di una guida hanno bisogno di qualcuno che dia loro delle opportunità e loro magari sanno tradurle anche in concretezza ecco noi come amministratori io in primis come sindaco e poi tutti gli altri livelli di amministrativi devono dare a questi giovani delle possibilità e poi ecco i nostri giovani ci dimostreranno che possono benissimo mettere in pratica quelle che sono le loro capacità e la loro voglia di fare quindi io auguro a tutti un buon lavoro vorrei parlare molto di più di quello che sto facendo ma so che saremo in tanti a portare il messaggio e a far capire qual è la bellezza di questo progetto per cui per proprio dare un ordine ai lavori e dare anche una piacevolezza agli stessi e per far ascoltare tutte le grandi testimonianze che saranno date termino qui il mio intervento e vi ringrazio ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e che oggi accendono il motore di questa meravigliosa macchina che possa essere per noi veramente una grande soddisfazione non solo oggi ma anche negli anni a venire grazie e buon lavoro a tutti grazie sindaco ora invito sua eccellenza Monsignor Nazareno Marconi Vescovo di Macerata Tolentino Recanati Cingoli e Treia a portare il saluto prego mi associo ai saluti già fatti dal sindaco perché risparmiamo tempo e parto da una notazione vedete la fede cristiana fin dalla sua radice ebraica dà un grandissimo valore al camminare all'itinerario pensate nei primissimi secoli i cristiani erano definiti come coloro che seguono la via e l'idea di sequela di sequela del maestro di camminare dietro al maestro è fondamentale per il nostro concetto cristiano Giovanni Paolo II parlando San Giovanni Paolo II parlando agli sportivi nel giubileo degli sportivi faceva una riflessione sul modo in cui i credenti si devono rapportare con le realtà umane e diceva la fede cattolica si presenta caratterizzata dallo stile dell'incarnazione per cui dinanzi alle espressioni delle facoltà naturali dell'uomo come può essere ecco la passione per la natura il camminare il vedere la bellezza tutte queste realtà l'atteggiamento non deve essere di rifiuto o di fuga ma di rispetto di stima casomai di elevazione in una parola di redenzione cioè accettare assumere perfezionare i valori umani allora credo che quello che state cercando di fare sia perfettamente in linea si parte da una realtà umana con cui ci confrontiamo che è il turismo il desiderio curioso di vedere di incontrare e come si redime cioè come si fa crescere come si fa salire di qualità questo turismo sostituendo al semplice vagabondare curioso del turista un itinerario dove la meta sia significativa e credo che spiritualmente anche per il significato del valore della famiglia la meta come la santa casa penso al cammini lauretani è sicuramente altamente significativa ha un valore umano cristiano e poi valorizzando anche tutti gli elementi di contorno il valore della natura il valore storico il valore artistico questo è veramente redimere un fatto che potrebbe essere semplicemente così spontaneo e molto limitato farlo crescere di livello spirituale e culturale le due cose camminano assieme per questo l'impegno della chiesa che non sta facendo qualcosa di secondario impegnandosi in questo ma segue quella che è la sua vocazione primaria ringrazio perciò sentitamente la regione Marche per il forte impegno nel promuovere una pratica turistica che si avvicina alla sensibilità del culto lauretano così come la conferenza episcopale marchigiana che si è impegnata in questo sostegno la delegazione pontificia per la vicinanza l'associazione della via lauretana che mi risulta da più di dieci anni lavora su questo io sono arrivato solo adesso per il momento posso solo togliere dalla naftalina le mie scarpe da montagna e promettere che ci proverò anch'io a darmi da fare appena riesco a trovare un po' di tempo e poi tutti coloro che stanno progettando hanno progettato e stanno curando la realizzazione di questi cammini e le sintonie e sincronie con le realtà che possono connettersi con questa via lauretana guardavo sul giornale di questa mattina perché sono sinceramente molto interessato come Umbro l'annuncio che almeno la prima parte della superstrada fino a Colfiorito sarà in consegna in tempi veramente brevissimi e pensare che una strada di grande comunicazione segue sostanzialmente lo stesso asse della via lauretana credo che può essere un passaggio significativo perché le due cose la comunicazione veloce e la comunicazione lenta c'è lo slow food e allora qui c'è anche lo slow tracking no? camminare lentamente pensando credo che possano andare in perfetta sintonia grazie e buon lavoro entriamo ora nel merito del tema che trattiamo questa sera abbiamo quattro relazioni introduttive io direi di contenerle massimo entro 15 minuti ciascuna e poi avremo quattro contributi tematici inizia Pietro Talarico che è dirigente del servizio turismo e commercio della regione Marche affronta questo tema con questo titolo meditazione e pellegrinaggio nei luoghi di fede e spiritualità delle Marche nell'ambito della rete europea del turismo tematico Adriatic Route buonasera a tutti anch'io mi associo ai saluti fatti in precedenza il mio è un compito abbastanza particolare cioè cercare di far capire come la nostra regione con una serie di progetti come è quello di Adriatic Route fa sinergia fa sistema con gli altri ecco noi non vogliamo essere una regione isolata dal resto dell'Europa quindi all'interno della cosiddetta macro regione Adriatica Ionica abbiamo partecipato ad un progetto molto forte con altri partner partner come la Grecia come la provincia di Padova come la Croazia come l'Albania come la Bosnia un progetto anche rilevante da questo punto di vista perché l'intenzione era quello di fare rete fare rete e tra virgolette vendere noi insieme all'altra parte dell'Adriatico abbiamo avuto un ottimo finanziamento da parte dell'Unione Europea quali sono gli obiettivi fondamentali gli obiettivi fondamentali proprio del progetto è proprio quello di fare aumentare la mobilità proprio per fini turistici nelle regioni chiaramente che hanno partecipato al progetto utilizzando e questa è una cosa che noi come regione Marchio come assessorato al turismo eccetera siamo anni che ci battiamo proprio per promuovere far conoscere la nostra regione tramite gli strumenti tc tramite i web tramite i social media eccetera ed è questo che stiamo puntando moltissimo perché è importante è importantissimo girando negli altri paesi partecipando alle varie fiere eccetera quello di dare il senso del nostro territorio cioè far conoscere il nostro territorio cosa che è difficile perché a livello di un mondo globale come quello attuale la regione Marchio è un punto un granellino noi non possiamo essere conosciuti perché siamo vicini a Rimini assolutamente noi siamo la regione Marchio ed è questo l'obiettivo che in questi anni ci siamo dati far conoscere la regione Marchio con i suoi tematismi regione al plurale diceva il dottor Orsetti diceva anche stamattina il presidente e questo dove stiamo lavorando all'interno di questo progetto Adriatic Root parlando con il presidente parlando con Orsetti eccetera dice ma qual è il tema che tra le varie nazioni e regioni noi dobbiamo scegliere perché ci caratterizza molto abbiamo un patrimonio culturale immenso fatto di abbazie di eremi eccetera li dobbiamo far conoscere e quindi il tema che abbiamo scelto è stato proprio quello della spiritualità e della meditazione attenzione basta con i campanilismi o i localismi anche in questo settore della spiritualità e della meditazione non serve non esiste tra virgolette l'oreto da sola così come non esiste l'abbadia di Fiastra o l'erum eccetera ma tutto all'interno di una sinergia un sistema e sia con l'Istao che stiamo lavorando per mettere a rete tutti e dopo vi faremo vedere anche un lavoro di un'app sulla spiritualità ad essere in italiano ma ce l'abbiamo anche in inglese quindi ci saranno le colleghe che ve lo illustreranno per farvi vedere come stiamo lavorando come sistema regione e marche questa è la grande sfida quindi i cammini lauretani all'interno di un sistema generale della via della spiritualità e della meditazione delle marche perché il nostro compito tra virgolette oltre a essere quello di comunicare di far conoscere le bellezze il patrimonio eccetera quindi il raccontare dice il presidente dopo dobbiamo passare anche all'operatività perché raccontare da solo non basta poi diventiamo un po' venali dobbiamo anche vendere vendere il nostro prodotto le nostre bellezze che sono diverse dalle altre vedete proprio per questo questi tre giorni è solo l'inizio di un lavoro di un percorso che abbiamo iniziato e che dovremo continuare e che continueremo mettendo come abbiamo fatto fino adesso lo stesso tavolo tour operator la chiesa la regione marche le varie congregazioni eccetera per fare per fare un pacchetto unico da poter vendere sia in Italia che all'estero proprio per questo motivo in questi giorni oramai sono passati già 4-5 giorni abbiamo portato qui nella nostra regione una serie di tour operator e questa sera proprio qui ci saranno 14 grossi tour operator agenzie eccetera italiane con 6 o 7 tour operator internazionali che avranno un confronto ma sono tour operator dedicati proprio e specificatamente alla spiritualità e meditazione quindi ci sarà da lavorare ecco questo è quello che dice il presidente cioè saper raccontare il nostro territorio ma dopo passare all'operatività cioè a dire dovete venire nelle marche state bene c'è qualità ecco questo è più o meno il lavoro che vogliamo fare anche in collaborazione con le altre regioni europee che parteciperanno a questo progetto io mi fermo qui perché il tempo è tiranno perché ci tenevo moltissimo perché le mie colleghe in pochi minuti vi fanno vedere vi faranno vedere uno dei primi prodotti a sistema che stiamo e che abbiamo elaborato grazie bene grazie sì sì prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti scusate scusate c'è un piccolo problemino tecnico da lassù che adesso la regia io faccio eh no c'è ovviamente che cosa fa la regione Marche per fare in modo che si passi dalla narrazione dei turismi dal dal racconto poi dopo a intercettare veramente i bisogni e le esigenze del turista intanto ha realizzato un sistema unico informativo e di contenuti per il turista che fa capo al nostro sito del turismo turismo.marche.it è un sito tra l'altro multilingue che è stato recentemente integrato con il sito degli eventi eventiturismo.marche.it il sito del turismo è il punto di riferimento per tutte le nostre attività ed è la principale banca dati di accesso anche per il lavoro dei social network molti di voi sapranno insomma del caso Marche che è un caso mai analizzato anche a livello nazionale per il grande seguito che abbiamo come regione grazie al social media team della regione Marche che lavora presso la fondazione Marche Cinema Multimedia per intercettare i nuovi turisti quelli appunto che stanno in rete attraverso i principali canali come Facebook Twitter Flickre e così via l'attività costante del team del social media team della regione Marche nel giro di un paio d'anni ha portato la regione ad essere la più seguita in Italia dal punto di vista turistico quindi ovviamente fornendo continuamente informazioni conversazioni dialoghi con tutti gli utenti sia in lingua italiana ma soprattutto anche nelle altre lingue soprattutto in lingua inglese e da pochi mesi anche in lingua tedesca contestualmente a tutto questo abbiamo realizzato fin dall'anno scorso dalla World's Internazionale del Turismo di Milano le app le app di cui dopo vi parlerà anche la mia collega Carla Alfonsi sono degli strumenti che sono scaricabili sia per chi ha l'iPhone sia anche per chi ha apparecchiature Android le app sono ovviamente dedicate ai nostri temi vacanza ai cluster di cui vi parlava prima il nostro il nostro dirigente i sei temi vacanza i sei cluster che la regione Marche ha individuato sono Marche in blu la cultura the genius of Marche la terza icona che vedete è quello dei borghi dolci colline antichi borghi made in Marche dedicate al gusto e allo shopping parche in natura attiva e il cluster spiritualità e meditazione che è l'oggetto principale di questo progetto che è stato appunto voluto fortemente dalla regione per lanciarlo a 360 gradi tutto questo poi dopo è collegato anche ai mezzi più tra virgolette normali e consueti cioè la posta elettronica per chi vuole avere informazioni sul turismo e il numero è verde il primo il primo strumento che vi presentiamo velocemente appunto è il sito internet della regione Marche dove potete vedere in questa slide immediatamente subito visualizzati i sei cluster e ovviamente all'interno del sito del turismo esistono già da tempo oggi le abbiamo sistemati i contenuti i testi le foto relativi ai tematismi la cosa più importante da sottolineare è questa che tutto quello che è nel sito è immediatamente consultabile sull'app cioè non sono due mondi sconnessi ma sono due mondi fortemente connessi per cui una qualsiasi sbavatura una qualsiasi aggiornamento da fare viene fatto sul sito immediatamente percepito e visualizzabile nell'app spiritualità e meditazione accanto a questo va ancora avanti perché ce lo richiedono fortemente ancora le brochure cartacee per cui a tutto questo è stata realizzata l'anno scorso in occasione della BIT la guida spiritualità e meditazione e tra l'altro abbiamo allestito proprio per oggi un piccolo desk che avete sicuramente visto all'entrata della sala convegni quindi chiunque dove fosse interessato a prendere il materiale lo può tranquillamente ritirare ecco questa è l'app l'app spiritualità e meditazione che è stata lanciata proprio in occasione della conferenza stampa che si è tenuta in regione qualche giorno fa del progetto ovviamente per noi Loreto per tutti noi Loreto è il nostro fare il nostro punto di riferimento per l'importanza che risiede a livello spirituale a livello religioso e a livello culturale ma è un po' anche la riporta diciamo per tutto il discorso della spiritualità e della meditazione vedete anche le due iconcine scaricabile sia per chi ha appunto mezzi Android che per chi ha mezzi Apple adesso qua con tutta in sequenza ci sono le singole slide quindi una piccola apertura una piccola introduzione a che cos'è il tematismo della spiritualità e meditazione e poi uno di seguito all'alto tutti i principali luoghi da Loreto fino a Fontavellana Tolentino la Bazzia di Fiastra e così via visualizzabile sia sotto forma di testo che sotto forma di riferimento a livello informativo ovviamente c'è tutta anche una galleria che si può aprire che si può vedere che si può visualizzare e poi la cosa abbastanza nuova per queste app è l'intreccio molto forte con i servizi quindi località visitare eventi dove dormire dove mangiare shopping di qualità gli uffici informativi in modo tale che l'utente che è dotato di smartphone possa immediatamente trovarsi in un posto ma capire da che cosa è circondato ovviamente tutto questo può essere condiviso per cui se un utente ama particolarmente un posto piuttosto che un altro lo può condividere qua entriamo ancora più nel dettaglio dei servizi tecnici legati anche alla georeferenziazione e quindi passo la parola alla collega Carla velocissima dalla app si propone appunto di essere vicina e di essere disponibile quando l'utente è sul luogo quindi questo servizio intorno a me basa la propria posizione verifica la posizione dell'utente e fa vedere tutte le risorse e gli itinerari vicino all'utente quindi potete vedere che una volta che uno ha selezionato una tipologia di informazione che sulla mappa paiono di punti e si può vedere sulla base della posizione dell'utente tutte le risorse vicine e quindi attivare magari la posizione navigatore del cellulare e recarsi direttamente sul luogo la parte diciamo anche degli itinerari è sempre presente la georeferenziazione e quindi è possibile anche vedere tutte le informazioni relative ai centri i atti a tutti i servizi diciamo del territorio la parte relativa alla georeferenziazione è condivisa con tutto diciamo i progetti europei e nazionali che abbiamo di conseguenza tutti i dati che sono stati elaborati e pubblicati all'interno sia dell'app che del sito sono visibili in tutti i circuiti nazionali e internazionali quindi anche in Adriatic Route la cosa interessante è che su Google Play e su Apple Store è l'unica applicazione presente sulla spiritualità e meditazione di una regione e di un ente pubblico quindi è molto importante noi siamo l'unica regione che abbiamo realizzato un'app per questo tipo di cluster turistico di conseguenza è molto interessante anche vedere quale sarà l'interesse degli utenti degli internauti sostanzialmente su questa materia già dal punto di vista delle chiavi e della ricerca delle chiavi spiritualità e meditazione Google ci dà l'indicazione che la ricerca mensile sulla chiave meditazione e spiritualità è circa 44.000 ricerche al mese di conseguenza ci auguriamo che insomma questa cosa sia molto questa applicazione questa app e non solo l'app tutti i contenuti siano molto visualizzati e quindi possano essere distribuiti in maniera possano aiutarci a promuovere il nostro territorio io qui mi fermo e vi ringrazio bene ringraziamo Carlo Alfonsi Marta Paraventi e Pietro Talarico parlando di Loreto e di percorsi lauretani non poteva non esserci padre Giuseppe Santarelli che è il direttore della congregazione universale della Santa Casa di Loreto ci parlerà sulla presenza di Loreto nelle capitali d'Europa quindi molto volentieri lasciato la parola padre Giuseppe dovrò illustrare questo argomento attraverso soprattutto delle immagini ma premetto che nel 2000 d'accordo con la regione Marche è stato fatto un primo censimento dei luoghi di culto mariano lauretani nel mondo e dopo varie aggiunte siamo arrivati al presente a 4211 luoghi nel mondo dove si venera la Madonna di Loreto o in riproduzione della Santa Casa un centinaio o in chiese moltissime parrocchie o in cappelle immagini edicole eccetera perfino uno stato del Perù grande quando l'Italia per estensione geografica è intitolato alla Madonna di Loreto si chiama Loreto io parto subito indicando e devo però spostarmi magari posso mettermi qui sì sì io salgo vado rapido non accenno alle capitali tutte d'Europa ma accenno puoi tornare indietro un attimo a Vilnius questa è la chiesa della Madonna di Loreto oggi è detta dei gesuiti dove si trova all'interno una bella immagine della Madonna di Loreto della traslazione della Santa Casa la tralascio anche Dublino perché queste immagini della Madonna di Loreto nell'aeroporto sono in tantissimi altri aeroporti dei paesi cattolici perché la Madonna di Loreto lo sanno è patrona dell'aviazione passo invece rapidamente a Lussemburgo ecco a Lussemburgo abbiamo una bella cappella della Madonna di Loreto con una immagine bella pure molto venerata ma mi fermo soprattutto adesso a Brixel Brixel consideriamo in qualche modo oggi la capitale d'Europa per certi aspetti almeno ha una bellissima riproduzione della Santa Casa nel 1650 Isabella Arciduchessa costruì una bella riproduzione della Madonna distrutta durante la rivoluzione francese è stata poi ricostruita nel 1815 però in fattezze un po' libere qui sorse nel 1648 una confraternita attivissima che ha un registro di presenze di pellegrini al santuario di Loreto attraverso le vie europee molto bella questa è l'immagine vedete com'è ben tenuta perché è la confraternita ancora attiva ed è diventato punto di riferimento per gli aviatori di Bruxelles si trova nel centro storico a ridosso del palazzo della giustizia e quindi molto visitata possiamo andare avanti e mettere in evidenza come gli aviatori abbiano fatto dipingere questa bella traslazione della Santa Casa dopo che Benedetto X V nel 1920 l'ha proclamata patrona universale dell'aviazione quindi è stata rinnovata in qualche modo la devozione della Madonna di Loreto in tutto il mondo proprio per essere la patrona dell'aviazione sappiamo oggi il movimento delle persone per aereo possiamo andare avanti e passiamo a Varsavia a Varsavia abbiamo due luoghi della Madonna di Loreto una prazza del 600 dove si conserva ancora questa bella cappella venerata ma soprattutto mettiamo in evidenza che a Varsavia nel 1971 le suore lauretane hanno costruito una chiesa dedicata alla Madonna di Loreto con una bellissima statua che il Cardinal Glempe ha definito santuario della città santuario mariano e poi nel 2008 è stata la Vergine Santa incoronata eccola la vedete con la nuova corona la Madonna di Loreto a Varsavia è un santuario Varsavia c'è anche una parrocchia dedicata alla Madonna di Loreto c'è una statua nell'aeroporto e in Polonia poi sappiamo che a Cracovia c'è una splendida riproduzione della Santa Casa dove Giovanni Paolo II quando era cardinale di quel luogo andava a pregare e lì cominciò la sua viva devozione alla Madonna di Loreto lo portò cinque volte pellegrino da Papa a Loreto il Papa più lauretano della storia passiamo avanti questa è sempre la stessa immagine e andiamo a Bratislavia capitale della Slovacchia qui abbiamo due luoghi molto belli l'uno è delle orsoline le quali all'interno di una chiesa che recuperarono nel 1650 fecero una bella cappella dedicata alla Madonna di Loreto eccola qui la vedete è un'opera d'arte di stile barocco con la Madonna al centro ma questa qui soprattutto noi vogliamo mettere in evidenza senza dalmatica una Madonna che porta i colori dell'antica immagine lauretana che è andata distrutta nel 1920 un altro luogo del 1708 si trova a Varsavia nella riproduzione della cappella più avanti della riproduzione della cappella nella chiesa meglio dei frati minori questa qui ecco questa vediamo la chiesa all'esterno dentro c'è anche poi l'immagine e la riproduzione della Santa Casa che la vedete qui perfettamente riprodotta con la volta a botte proprio la Santa Casa di Loreto e la bella immagine è molto venerata questa cappella ecco l'immagine della Madonna a Bratislava possiamo andare avanti ecco questa andiamo a Praga Praga è in qualche modo la capitale lauretana proprio perché dopo il santuario di Loreto il monumento più bello alla Madonna di Loreto è sorta a Praga nel 1621 una nobile signora del luogo ha voluto affidare all'architetto italiano Giovanni Battista Orsi la riproduzione della Santa Casa che lo vedete qui successivamente intorno a questa riproduzione fece avanti fece costruire 14 cappelle di cui questa con il campanile della Natività di Maria la più bella con dentro le litanie lauretane che sono sorte proprio a Loreto e da Loreto si sono diffuso in tutto il mondo per questo sono dette lauretane è un monumento straordinario più successivamente nel 1637 avanti ecco ha fatto costruire un rivestimento marmoreo identico a quello della Santa Casa di Loreto lo vediamo qui in questa angolatura c'è anche un'altra angolatura penso avanti può andare no ecco e poi nel 1637 ha intronizzato la statua della Madonna di Loreto in un altare tutto d'argento con una corona tipica dei paesi dell'Oriente cristiano molto bella molto venerata ancora oggi voi sapete che il Praga il Loreto di Praga è uno dei monumenti che i turisti di tutto il mondo vanno a visitare più avanti ecco qui abbiamo invece Budapeste Budapeste abbiamo una bella riproduzione della Santa Casa voluta praticamente si trova nella cattedrale voluta come segno di gratitudine dei cattolici ungheresi di Buda per la liberazione della città e della cattedrale dalla dominazione musulmana la quale aveva trasformato la cattedrale in moschea quando hanno per la città e riconquistato la cattedrale hanno messo in bella evidenza l'antica statua della Madonna di Loreto e la venerano ancora con grande devozione una bella lapide al lato spiega tutta la storia di questa riproduzione della Santa Casa e della statua della Madonna di Loreto dopo Budapeste andiamo a Vienna questa è ancora Budapeste vedete questa è ancora Budapeste una immagine della traslazione della Santa Casa naturalmente sono tutti dipinti ispirati alla tradizione lauretana i quali naturalmente non fanno altro che tenere viva la devozione mariano-lauretana in quei paesi avanti ancora ci troviamo a Vienna nel 1650 Leonora che era la ceduchessa di Vienna fece costruire una bella riproduzione della Santa Casa in quella Santa Casa andò vittoriosa a ringraziare la Madonna Giovanni Sobieschi e Beato Marco Daviano dopo la vittoria sui turchi nella battaglia di Vienna del 1683 e intonò lì l'inno Tedeum Laudamus davanti proprio all'immagine della Madonna di Loreto accompagnato da Marco Daviano sotto l'imperatore Giuseppe II detto re sagristano perché interferiva un po' anche nelle faccende liturgiche quella cappella fu abbattuta quella riproduzione della Santa Casa e si venera però ancora la bella stato della Madonna che nei paesi nord e orientali europei porta spesso lo scettro della regalità Maria Regina con il bambino sempre che ha sul globo la croce domina il mondo che ha redento con la sua croce avanti qui abbiamo un'altra bella immagine venerata a Viena nella chiesa dei frati minori francescani e anche questa con lo scettro in mano con lo stesso stile ma interpretata un po' liberamente rispetto all'esemplare originale possiamo andare avanti e ci portiamo a Lubiana capitale della Slovenia qui c'è un'antica chiesa dedicata all'antività di Maria nel 1657 un certo Liber Edoardo del luogo che era un barone fece costruire una bella riproduzione della Santa Casa all'interno di questa chiesa che ancora si venera e ha andando avanti una bella immagine che si trova sul timpano una statua sul timpano della chiesa e dentro questa riproduzione liberamente interpretata l'immagine della Madonna di Loreto poi possiamo andare avanti non ho tanto tempo ma questa qui è pure una bellissima immagine che si venera a Lubiana passiamo a Parigi Parigi loro sanno che nella zona di Montmartre sotto le Sacre Coeur si venera la Madonna di Loreto c'è una basilica dedicata a Notre Dame delle Lorette ma è antica la devozione della Madonna di Loreto in Francia sotto Luigi XIV sorse una riproduzione della Santa Casa Luigi XIV che era nato per intercessione della Madonna di Loreto perché Luigi XIII il padre e la mamma Anna d'Austria non riuscivano ad avere un figlio si rivolse alla Madonna di Loreto ottennero la grazia Luigi XIII inviò a Loreto le corone d'oro per la Madonna e per il bambino e su un cuscino d'argento portato da un angelo d'argento la figura di un bambino neonato del peso del neonato Luigi XIV quella riproduzione fatta sotto Luigi XIV andò distrutta durante la rivoluzione francese successivamente il culto fu portato nella chiesa dei San Michele e poi nel 1837 sorse questa bellissima chiesa in stile corinzio che dentro è decorata da pittori accademici della seconda metà questa è sull'architrave proprio sull'ingresso sul timpano della chiesa ma dentro ci sono belli affreschi dopo vedremo la statua prima gli affreschi avanti ecco gli affreschi di pittori francesi che narrano le storie della Madonna ma soprattutto noi mettiamo in evidenza questa qui che rievoca la traslazione miracolosa della Santa Casa per Ministero Angelico molto bella di un pittore di valore tornando indietro possiamo vedere la statua invece che nel 1837 scolpita da un maestro parigino ed è questa molto venerata la parrocchia è anche la chiesa è anche parrocchia ed è molto frequentata anche perché si trova in una zona dove i turisti vanno frequentemente possiamo andare avanti e passare adesso a Madrid a Madrid a Madrid questa è la riproduzione della Santa Casa che si trova nella chiesa delle Descalzas delle suore della visitazione era stata costruita nel 1650 da Giovanni d'Austria ed è ancora visitata è ancora venerata l'immagine della Madonna grazie anche all'attività delle suore che ne rendono vivo il culto ma a Madrid noi abbiamo anche un collegio antichissimo delle orfane era intitolato alla Madonna di Loreto Filippo II ricevette da Sisto V in dono una statua della Madonna di Loreto e la fece collocare in questo collegio dove c'è la riproduzione della Santa Casa ecco l'immagine la statua la vediamo dopo torno in piedi ecco la su sta in alto e in alto vedete molto sviluppato si è voluto riprodurre lo spazio ideale della Santa Casa di Loreto con l'immagine della Madonna anche questa è molto venerata poi passiamo a Lisbona avanti ecco Lisbona fin dal secolo X V i mercanti italiani scelsero la Madonna di Loreto come loro patrona e vogliono costruire una prima chiesa con l'autorizzazione dell'autorità pontificia ottennero una stata benedetta a Roma identica a quella della Madonna di Loreto durante il terribile terremoto del 1780 la chiesa cadde in rovina ma la confraternita la ricostruì bellissima e vedete che bella facciata con sull'arco proprio della parte del timpano la statua della Madonna di Loreto dentro è una bella chiesa a sviluppo molto direi verticale con l'immagine della Madonna con la dalmatica che è sopra eccola qui la vedete sopra l'altare è molto venerata perché ancora questa confraternita dei mercanti italiani è attiva e ne cura il culto passiamo per chiudere a Roma ecco questa Forutraiano voi la conoscete la chiesa della Madonna di Loreto ideata e iniziata da Antonio da Sangallo il giovane uno dei più grandi architetti del periodo romano successivamente fu portata a compimento da altri architetti con una bella cupola fa pantan con un'altra chiesa dedicata alla natività di Maria dentro si trova una bella immagine eccola della Madonna di Loreto sopra la Santa Casa con due angeli Sebastiano e Rocco che era proprietà dei fornai di Roma ai quali avevano scelto la Madonna di Loreto come loro protettrice la casa di Maria di Nazareth trasportata e venerata a Loreto richiama anche l'aspetto familiare domestico del pane e quindi l'avevano scelta come protettrice si vede questa bella immagine all'interno ma all'interno è stata anche riprodotta la Santa Casa un ambito tutto particolare con un'immagine moderna e questo è un luogo di devozione ci vanno molti pellegrini ma anche cittadini romani a pregare per Roma vorrei ricordare anche adesso rapidamente San Salvatore in Lauro i marchigiani fin dal 1637 costituirono a Roma il pio sodalizio dei Piceni e lo misero sotto la protezione della Madonna tra l'altro uno dei loro compiti era quello di diffondere il culto della Madonna di Loreto a Roma e poi successivamente acquistarono la chiesa di San Salvatore in Lauro e sull'altare della chiesa collocarono la statua della Madonna di Loreto che vedete molto bella lì eccola qui la statua della Madonna di Loreto che si venera a San Salvatore in Lauro ma a San Salvatore in Lauro ci sono gli altri dipinti della Madonna di Loreto uno di Domenico Peruzzini con la figura di una donna che rappresenta la marca la quale affida la Madonna di Loreto tutto il territorio marchigiano questo è un altro bel dipinto una traslazione che si trova sempre lì e sotto un paesaggio che richiama un po' l'ambiente architettonico delle città marchigiane poi per chiudere ecco qui la Madonna di Loreto del Caravaggio che si trova a Sant'Agostino nel 1603 il Caravaggio era presente a Tolentino nel convento soppresso dei Cappuccini dove dipinse un quadro andato perduto si portò a Loreto per prendere visione della Santa Casa e dipingere la Madonna di Loreto e anche per vedere la situazione della decoranda sala del tesoro al cui concorso partecipò ma il concorso lo sappiamo fu vinto dal pomarancio dipinse questa bella immagine della Madonna di Loreto rompendo tutti gli schemi iconografici avete visto che la Madonna di Loreto è raffigurata o con una statua e una nicchia o i miei dipinti sulla casa che vola lui no prende l'immagine della Madonna di Loreto la fa scendere dalla nicchia la porta sull'ingresso della Santa Casa accoglie i due vecchi pellegrini che probabilmente sono moglie e marito i committenti del dipinto come una mamma con il bambino che accoglie educare persone umanizza il fatto fa del pellegrinaggio lauretano un fatto umano e spirituale insieme è la madre che accoglie i suoi figli nella sua casa gentilmente e amorevolmente ha un'immagine veramente nuova che rompe tutti gli schemi precedenti e si conferma come opera originalissima del Caravaggio grazie ringraziamo il padre Santarelli per questo interessante viaggio ideale per l'Europa e per il mondo ora entriamo nel merito del progetto presentato sul distretto culturale europeo i cammini lauretani quindi do la parola a Simone Longhi si prepari poi Giuseppe Uccero mi potete dire grazie ancora un istante iniziamo ecco grazie scusate buon pomeriggio a tutti innanzitutto un saluto e un ringraziamento come direttore del progetto distretto culturale evoluto i cammini lauretani dicevo un saluto un ringraziamento al presidente Spacca al dottor Orsetti al dottor Talarigo che hanno insieme a tutta la regione fortemente voluto questo evento di valorizzazione del turismo religioso nelle Marche che hanno fin da subito sostenuto il progetto distretto culturale evoluto i cammini lauretani di cosa si tratta questo progetto nasce dall'incrocio speriamo felice tra il desiderio della comunità ecclesiale ecclesiale scusate di tutto il territorio di valorizzare recuperare l'antico percorso della via lauretana e un'opportunità importante che è stata offerta appunto dalla regione il punto di partenza è appunto la memoria della Santa Casa di Loreto di una pratica di culto anche del pellegrinaggio tanto diffuso in passato al punto da creare le proprie vie nel quadro della mobilità generale delle persone e delle cose ma certo una pratica ancora oggi presente ogni anno viviamo tutti l'esperienza del pellegrinaggio macerata a Loreto che solo quest'anno ha visto la partecipazione di 90.000 persone oppure il pellegrinaggio che tutti gli anni compiono molti giovani da Loreto ad Assisi e da Assisi a Loreto mi permetto di citare un grande pellegrino Monsignor Giulietti qui presente che quest'anno per la sua ordinazione episcopale ha percorso la via lauretana come preparazione poi lo sentiremo direttamente nella seconda parte del convegno quindi dicevo una memoria quella della via lauretana verso la Santa Casa di Loreto e più ampiamente dei cammini lauretani che tramanda il racconto dei pellegrini fin dal 1300 sostanzialmente all'indomani della traslazione a Loreto avvenuta secondo la tradizione tutti noi lo sappiamo la notte antecedente il 10 dicembre del 1294 con questo collocando quindi questi nostri percorsi sacri in un contesto non dissimile da importanti cammini come si diceva prima che sono quelli di Santiago e della via francigena potete vedere da questa bellissima incisione appunto le tappe del del viaggio da Roma a Loreto il nostro territorio le comunità ecclesiali ma anche le istituzioni laiche davvero sensibili a questo tema non hanno lesinato diciamo gli sforzi specie in questi ultimi 10 anni fino a trovare nel tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione dell'antica via lauretana il luogo dove diciamo le pubbliche amministrazioni gli enti religiosi le fondazioni hanno potuto condividere ispirazioni percorsi e obiettivi comuni il tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione dell'antica via lauretana è stato istituito nel dicembre del 2010 da tutti i vescovi delle Marche dalla conferenza episcopale marchigiana quindi dalla fondazione Carima dalla fondazione Carilo e dall'associazione dall'anci dei comuni d'Italia ecco da questo contesto ha preso forma un'idea che diciamo raccogliendo e sistematizzando ricerche ed impegno comune ha infine trovato l'occasione per concretizzarsi l'occasione è stato appunto il bando del distretto culturale voluto uscito a marzo nel marzo del 2013 per selezionare un bando per selezionare proposte innovative e coerenti di valorizzazione della cultura come fattore centrale di sviluppo del territorio ecco questo bando ha stimolato un'iniziativa progettuale che ha saputo unire e valorizzare gli sforzi di tanti indirizzandone l'azione verso obiettivi comuni è nato quindi dallo staff progettuale promosso dalla fondazione Mastro Cola su stimolo appunto del tavolo di concertazione un ringraziamento particolare a tutto il tavolo di concertazione qui lo voglio fare e in particolar modo al segretario Don Gianluca Merlini per il grande sostegno e il contributo che hanno dato quindi dicevamo uno spunto progettuale che via via ha trovato sempre maggiori consensi ed energie disponibili fino diciamo a coinvolgere in questo progetto più di 20 partner vedete nella prossima slide ecco il partenariato che forma oggi questa rete di promozione del progetto DCI Cammini Lauretani abbiamo il comune di Loreto Capofila molti enti ecclesiali partner pubblici come la provincia di Macerate e di Ancona abbiamo rappresentanze imprenditoriali le Camere di Commercio di Ancona di Macerata la Conf Commercio Imprese per l'Italia Marche Centrale la Conf Artigenato le Università di Macerata e di Camerino le imprese Artifex e Eli fondazioni la fondazione Carima la fondazione Cari Loreto e la fondazione Giustiniani Bandini che oggi ci ospita in questa bellissima cornice e l'associazione dicevamo prima via lauretana che raggruppa più di 20 comuni lungo la via lauretana quindi un patenariato molto importante per promuovere il progetto del distretto culturale evoluto i cammini lauretani ecco quindi dicevamo che questo progetto è un progetto importante che si basa su una filosofia abbastanza semplice fare di un valore culturale e noi sappiamo che valore culturale di che valore culturale parliamo la spiritualità lauretana una grande risorsa per lo sviluppo del territorio ma anche per la creazione di una imprenditorialità giovanile per nuove start up innovativa qualificata e ben radicata nel suo ambiente o ecco quindi dicevamo il valore di riferimento è la spiritualità lauretana un valore che ha sedimentato nei secoli ha innervato ed innerva tuttora il paesaggio la rete dei borghi le pratiche di culto i luoghi della memoria i beni culturali l'intreccio felicissimo tra bellezza del creato e il lavoro dell'uomo che così chiaramente può cogliere quasi con mano chi si dispone alla visita del nostro territorio potremmo forse dire che i cammini lauretani sono dei paesaggi dell'anima ecco passiamo velocemente perché abbiamo poco tempo e poi Uccero illustrerà più nel dettaglio il progetto a parlare un po' del contesto cioè dove si muove in che contesto si muove questo progetto sicuramente siamo nelle marche siamo lunghi percorsi che si dirigevano verso Loreto da più parti principalmente dalla via lauretana ma anche da nord a sud dalla via romea dalla via aprutina siamo quindi nelle valli del Chienti siamo nelle valli del Potenza ma anche nei monti Sibillini e da qui verso Fabriano ed anche da Loreto quindi verso Ancona il mare e poi via via verso mondi lontani padre Santarelli ci ha presentato in maniera molto significativa e importante come il culto lauretano è sedimentato in tutta Europa nel mondo ecco io vorrei solo citare ovviamente che accanto alle memorie del culto lauretano nelle capitali d'Europa di cui parlava prima padre Santarelli noi abbiamo anche memoria della Santa Casa di Loreto ne parlavamo ieri a Fontavellana con un tour operator inglese un cattolico inglese a Walsingham per esempio in Inghilterra e ovviamente in Croazia a Terzatto dove secondo la tradizione la Santa Casa si è posata prima di venire a Loreto ecco padre Santarelli prima ci ha dato un aggiornamento ieri è rimasto a 4.000 siti padre Santarelli ci parlava di più di 4.000 siti 4.200 siti in tutto il mondo che fanno riferimento alla memoria del testimonianze di culto mariano lauretano ritornando velocemente alla dimensione sopranazionale scusate e diremo anzi transcontinentale del culto lauretano ritroviamo qui e subito e del tutto agevolmente la piena coerenza e questo è un altro obiettivo che oggi ci poniamo cioè quello di presentare la candidatura dei cammini lauretani come itinerario culturale europeo quindi dicevo la piena coerenza dei cammini lauretani con il quadro di riferimento indicato dal Consiglio d'Europa e dall'Istituto europeo degli itinerari culturali dicevo prima il dottor Rucero ci presenterà più nel dettaglio questa tematica questa progettualità a me preme affermare però fin d'ora in linea di principio quanto lo spessore storico dei cammini lauretani appaia non solo rispondente alle prescrizioni comunitarie ma addirittura le abbia anticipate sin nel merito dei valori intrecciati attorno al culto della Santa Casa di Loreto quanto anche nella prassi delle genti che approssimandosi alla Santa Casa di Loreto condividevano un modo pacifico di incontro e di scambio quanto anche nella molteplicità dicevamo prima dei luoghi di culto in cui via via si è insediato diciamo il culto lauretano pressoché in tutto il territorio europeo e non solo quindi oggi presentiamo questo progetto dei cammini lauretani come eccellenza all'interno del cluster meditazione spiritualità lo presentiamo anche nell'ottica perché no in una proiezione nella macro regione atriatico ionica con la Croazia e l'Albania abbiamo parlato prima di di terzatto presentiamo oggi anche la road map cioè le linee guida per la candidatura dei cammini lauretani a itinerario culturale europeo concludo dicendo che in questi valori che ho cercato di esprimere così velocemente sta l'identità più profonda dell'esperienza dei cammini lauretani le motivazioni le ragioni per promuovere un'iniziativa che speriamo possa essere fonte del più ampio benessere sia materiale che spirituale di tutte le popolazioni sia quelle nostre locali sia quelle che verranno a farci visita nei prossimi anni e speriamo nei decenni a venire grazie bene grazie ora con Giuseppe Uccero che è il progettista esperto su questo tema dei cammini lauretani entriamo ancora più nel merito del progetto quindi do la parola mi raccomando il rispetto dei tempi se riusciamo ad accorciare pure meglio scusate ma siamo fuori fuori di parecchio mi piacerebbe parlare per un paio di ore su questo tema ma come si vede dieci minuti è il tempo massimo che mi viene concesso d'altra parte pensavo un momento fa il padre nostro consta di cinquantasette parole e dice tutto quindi molto umilmente però cerchiamo comunque di essere il più possibile sintetici salto quindi di una serie di considerazioni che lascerò agli atti e vado subito sperando ecco di azzeccare l'uso della diavoleria tecnologica a presentare la sintesi del progetto il progetto si propone si diceva di fondare su un profondo valore culturale del territorio una prospettiva di sviluppo quindi memoria e futuro attraverso la legatura che un progetto specifico può promuovere da questo punto di vista inevitabilmente giustamente abbiamo seguito una linea di azione che ci è stata proposta dalla regione Marche e che evidentemente è stata apprezzata il primo asse è l'asse che tutto muove il tema è quello dell'identità della spiritualità lauretana quindi in primo luogo ci proponiamo l'obiettivo di accrescere questo e di non degradarlo di non utilizzarlo con modalità non appropriate nello sviluppo delle azioni di attività quindi come stiamo cercando di fare con questo evento di oggi come cercheremo di fare con l'evento soprattutto di domani che ha più taglio culturale e religioso e come cercheremo soprattutto di fare nei prossimi anni intendiamo promuovere la conoscenza della spiritualità nel modo con cui può intrecciarsi con la vita locale la seconda iniziativa che è strategica è l'iniziativa per riconoscimento dei cammini lauretani come itinerario occultare europeo in questo caso parliamo di un grande riconoscimento europeo che è fondamentale per inserire i cammini lauretani all'interno della grande rete degli itinerari culturali e ottenere così sinergie preziose e anche ritorno di immagine oltre che risorse economiche il secondo asse abbastanza elementare anche esso parliamo di distretto di distretto culturale evoluto distretto che cos'è è un mettere assieme le risorse riconoscersi nelle proprie autonomie nei propri gradi libertà ma tuttavia orientare l'azione unitaria verso un'iniziativa comune prima di tutto essere riconosciuti come un'unità e quindi un marchio secondariamente comunicare efficacemente il marchio ma per carità le cose che si fanno effettivamente attraverso un'azione di comunicazione integrata che ovviamente integra una politica dei loghi le tv il sito modalità tradizionali con modalità tecnologiche il terzo asse il terzo asse riconosce la necessità di recuperare i valori culturali nella loro consistenza e materiale e immateriale il primo di questi valori culturali è la via lauretana stessa che oggi è un elemento della memoria ma non è più purtroppo un percorso anche se sappiamo che giustamente si è tracciato una sequenza di passaggi che rimembrano le antiche tappe però da questo a portare questo percorso in contesti di sicurezza di godibilità di vicinanza alla natura eccetera beh c'è sicuramente molto lavoro da fare non possiamo pensare con le nostre risorse di progetto di recuperare 200 o addirittura invece di reinventarli perché in molti punti questo non è più possibile in molti punti giustamente si diceva prima sull'antico tracciato della Villa Oretana è stata collocata la viabilità ordinaria le strade provinciali piuttosto che le statali quindi noi non possiamo chiedere ai pellegrini giovani magari anche persone di una certa età eccetera di andare sulle strade a forte percorrenza automobilistica dobbiamo cercare di individuare dei percorsi alternativi strade bianche ben conservate vicine a dei servizi che ne favoriscono la fruizione e vi discorrendo noi nel nostro progetto intendiamo fare un prototipo una buona prassi che sia di riferimento nella metodologia e nel risultato rispetto alle attività successive di valorizzazione chiaramente qui ci sono tutta una serie di altri aspetti la georiferenziazione la segnaletica diamo molto per scontato queste cose su cui si è detto parecchio la seconda iniziativa pilota su cui si intende lavorare fortemente è il restauro la riqualificazione della chiesa di San Giovanni Macerata che anche grazie al contributo della fondazione Carima potrà diventare un polo di servizi di informazione e di animazione culturale anche a favore dei visitatori che percorrono la via internazionale non dimentichiamo che questo progetto e ce lo ricorderà sicuramente se non lo diciamo noi il presidente Spacca è un progetto che intende valorizzare beni culturali in una prospettiva di sviluppo locale di sviluppo imprenditoriale principalmente mirato a sostenere lo sforzo dei giovani nella creazione di imprenditorialità a forte contenuto innovativo e a forte contenuto tecnologico questo asse è l'asse se si vuole più impegnativo più difficile perché si propone di costruire quelli che abbiamo un po' mi rendo conto una logica un po' di marketing chiamato laboratori lauretani cioè luoghi virtuali anche fisici in cui giovani e risorse qualificate si incontrano per mettere a punto idee imprenditoriali per implementarle per verificare l'affettibilità e anche per individuare delle linee di sviluppo che possono avere ricadute sul territorio i tre laboratori sono uno sull'information communication technology uno sull'innovazione degli oggetti di culto art e uno sulla produzione culturale l'asse 5 è l'asse che invece si occupa della diffusione delle innovazioni imprenditoriali così messa a punto sul territorio quindi una volta che nel corso dell'attività dei laboratori si sono individuate specifici prodotti specifiche linee di attività specifiche innovazioni queste innovazioni verranno resi disponibili al territorio in due modalità principali la prima modalità è la creazione di start up quindi l'attivazione di nuove imprese giovanili la seconda attività invece è il fare in modo che anche il tessuto esistente attorno a queste neo imprese sia fortemente coinvolte e quindi sia posto in sinergia con queste iniziative il sesto asse è l'asse della governance e management vabbè usate l'inglesismo eccessivo fondamentalmente si diceva ci sono 20 partner ci sono 20 realtà molto diverse tra di loro con finalità diverse con missioni diverse con competenze diverse con sensibilità diverse che però devono essere favorite nel lavorare assieme allora c'è un discorso di obiettivi ma c'è un discorso anche di modalità di collaborazione da questo punto di vista abbiamo pensato a una serie di ambiti nei quali ci sia la possibilità di esprimere un'unità di indirizzo e quindi i comitati di indirizzo un ambito in cui ci sia la traduzione di questi indirizzi generali in gestione quotidiana e quindi il comitato di gestione il direttore Simone Longhi un comitato scientifico che dia gli indirizzi complessivi in termini tecnici tecnologici disciplinari e anche ci è sembrato giusto collocare allo stesso livello degli altri tre ambiti il tema della supervisione etica cioè nel momento in cui si promuove una logica di sviluppo fondandola anche sulla un certo valore religioso e culturale bisogna rendersi conto che operiamo in un contesto ad alta sensibilità e bisogna quindi porre le iniziative appropriate perché non ci siano modalità non corrette passo ci sono scusate io mi scuso per la frettolosità avrà altri momenti come? avrà altri momenti avremo altri momenti grazie per la la roadmap la roadmap che cos'è? noi ci proponiamo di promuovere i cammini lauretani come itinerario culturale europeo ma questa proposizione non è non consiste in un atto mandiamo una cartolina a Bruxelles che ci risponde dicendo piace o non piace è un processo complesso che prevede più tappe che ha come presupposto la verifica da parte di Bruxelles di Strasburgo di Lussemburgo degli enti deputati a che i valori propositi dei cammini lauretani siano coerenti con quelli istitutivi degli itinerari culturali europei abbiamo previsto quattro azioni la prima la stiamo conducendo adesso ed è l'animazione del territorio primi pregi di contatto che sono in corso con le istituzioni comunitarie e l'elaborazione delle linee guida quindi aspetti essenziali per la messa a punto della candidatura l'azione seconda è l'avvio vero e proprio del processo di riconoscimento quindi la creazione di una partnership europea la messa a punto del dossier di candidatura e tutto questo non è una cosa che si fa in due minuti perché implica un notevole sforzo un notevole sforzo nell'attivazione e nella gestione di rapporti specialmente a livello europeo la terza fase la terza azione che peraltro come vedete qui sono azioni che per aspetti non sono del tutto allineate nella loro sincronia ha a che vedere con la messa a punto di reti di marchio di progetti pilota noi queste cose abbiamo già cominciato a farle quindi nel prossimo periodo le rafforzeremo il dossier viene sviluppato faremo parecchi incontri si dice in giro per l'Europa ma insomma ma inviteremo anche molto qui insomma anche all'interno poi del tavolo delle vostre cose e ho finito e ho finito eccomi all'azione 4 dove finalmente il dossier che grazie al lavoro di tutti andremo a presentare sarà fatto oggetto delle sessioni finali di valutazione e sperabilmente si concluderà con l'approvazione del rilascio della certificazione aggiungo solo una cosa oggi ci sono 24 itinerari culturali europei di diversa importanza di diversa diffusione di diversa di questi quattro se non ricordo male il dottor Pattoneri poi lei nel suo intervento mi saprà confermare di questi quattro di quelli che conosco io sono itinerari di pellegrinari cioè Santiago di Compostela e altri che in questo momento non vado ulteriormente a descrivere quindi questo è quindi un grande contesto un grande mondo in cui è molto importante che la nostra iniziativa trovi riconoscimento e devo dire anche soddisfazione un'ultima parola ringrazio davvero tutti per avere creduto in questa iniziativa e per avere quindi consentito a uno sforzo decennale della società di viola età e anche di altri di trovare finalmente diciamo pure le gambe attraverso le quali procedere avanti grazie mille grazie bene bene adesso apriamo la sessione degli interventi dei contributi tematici ne sono quattro apre Sua Eccellenza Monsignor Paolo Giulietti Vescovo Ausiliario di Perugia prego Monsignor Buonasera a tutti parto dalla constatazione che c'è un grande interesse nel nostro paese ma anche altrove verso gli itinerari di pellegrinaggio un interesse che muove dalla constatazione di come alcuni di questi segnatamente Santiago sono stati un grande motore di sviluppo turistico commerciale imprenditoriale rispetto a questo mi sento di dire che c'è un'attenzione da avere proprio per poter riprodurre efficacemente quel modello e quell'esperienza l'attenzione è quella che motore di tutto è il pellegrinaggio e cioè quell'esperienza che dà all'itinerario un'anima che lo rende attrattivo e che genera poi i flussi del turismo religioso e del turismo culturale quindi direi in principio il pellegrino come funziona il pellegrinaggio cioè come accade che un itinerario funziona vi dico sei cose primo discontinuità rispetto all'esperienza quotidiana non vado a casa non cerco le cose di casa cerco qualcosa di diverso cerco un'esperienza che mi faccia vivere una dimensione del tempo dello spazio delle relazioni delle cose diverse da quelle di casa ora alle volte si dice dobbiamo far sentire la gente come a casa no qui proprio se deve sentire fuori casa abbiamo lasciato casa casa è lontana seconda cosa il disagio la fatica la gente non va a dormire per terra perché non c'è i soldi va a dormire per terra perché se non c'è il disagio non c'è il pellegrinaggio allora l'accoglienza i servizi non devono essere servizi di agio cioè comodi devono essere servizi scomodi disagiati faticosi rischiosi sicurezza queste parole non esistono nel pellegrinaggio cioè il pellegrinaggio cerca il disagio cerca un'esperienza che gli faccia vivere qualcosa che non sperimenta più nelle comunità di ogni giorno il disagio la fatica terza cosa la solitudine la solitudine non dobbiamo riempire il tempo del pellegrino dobbiamo lasciarlo solo dargli tempo di pensare la sera di scrivere il diario di parlare con gli altri non dobbiamo riempire di eventi il pellegrinaggio si cerca la solitudine che non abbiamo più nella vita di ogni giorno siamo pieni di cose di rumori di applicazioni sul telefonino la solitudine stare da soli quarta cosa la gratuità nel pellegrinaggio si sperimentano le relazioni gratuite cioè il farsi vicino dell'uomo all'altro uomo per nessun interesse allora direi prima di vendere bisogna capire come regalare come regalare come fare in modo che chi viene dice qui mi accolgono gratis poi pago però mi regalano qualcosa quinta cosa la tradizione il pellegrino non cerca il bell'itinerario cerca di seguire i passi degli altri di quelli che per 800 anni sulla via Loretana per 1200 anni sul cammino di Santiago hanno fatto la stessa strada non importa se adesso c'è il capannone non importa se adesso c'è l'asfalto è la strada che hanno fatto prima di me degli uomini che come me hanno cercato le stesse cose che cerco io quindi la tradizione valorizzare questa trasmissione di un'esperienza che avviene andando che avviene camminando seguo i passi degli altri e altri seguiranno i miei questa potente tradizione che nel pellegrinaggio soprattutto negli itinari storici si ha la possibilità di sperimentare l'ultima parola una parolaccia la posso dire? Dio il pellegrino fa i conti con Dio fa i conti comunque lo chiami comunque lo senta con l'esperienza della trascendenza non si può eliminare dal pellegrinaggio Dio che non è meditazione che non è spiritualità ma è Dio una persona che ha interagito con le persone di chi ha camminato prima di me che ha fatto nascere le chiese gli ospitali i ponti le strade i servizi le confraternite le istituzioni religiose questa realtà con cui faccio i conti credente o non credente faccio i conti con questa realtà potente che ha generato questa esperienza che io sto replicando questo non vuol dire che non ci sia spazio per tutti questo non vuol dire che ciascuno non possa vivere questo confronto a partire dalla sua sensibilità delle sue domande ma sarebbe un prendere in giro le persone se non dicessimo che sui itinerari di pellegrinaggio c'è Dio c'è la sua presenza che parla fortemente al cuore dell'uomo e allora ecco credo che queste attenzioni non possano non essere presenti per costruire un percorso dove davvero la gente cammina perché se la gente cammina il percorso diventa interessante se diventa interessante ci vengono anche i turisti religiosi se ci vengono i turisti religiosi poi ci viene anche il grande turismo però questa sequenza è importante al di fuori di questa sequenza ho il dubbio che gli itinerari finiscano come tanti itinerari anche riconosciuti dal Consiglio d'Europa dove nessuno passa dove nessuno va tipo la rotta dei Fenici non so quanta gente ci va sulla rotta dei Fenici l'Itinerario culturale europeo riconosciuto e quant'altro con dignità culturale ma non so quanto sia motore veramente di presenza di sviluppo di turismo di nuove imprese quindi non corriamo il rischio di saltare questo passaggio perché è un passaggio fondamentale bisogno di questi ingredienti l'ultima cosa che mi sento di dire perché ne faccio l'esperienza personalmente in Umbria sto seguendo un po' la via di Francesco anche in collaborazione con la regione che è quella dell'attenzione alla manutenzione è molto è relativamente facile costruire delle cose ma è molto duro mantenerle nel tempo ora un itinerario di pellerinaggio dura nel tempo speriamo nei secoli allora l'attenzione è a mantenere quello che uno fa e a fare le cose che siano facilmente mantenibili facilmente sviluppabili e migliorabili ma soprattutto mantenibili nella propria efficienza ho fatto la via lauretana a luglio in preparazione la mia ordinazione e ho visto grazie anche alle piogge al sole di questi giorni le erbe alte soffocare i sentieri magari anche sentieri aperti da poco ben segnalati e pubblicati ecco la sfida della manutenzione è qualcosa di molto semplice ma di molto complesso che ci chiede proprio l'attenzione a mantenere aperte quelle vie su cui i pellegrini possono ancora oggi passare grazie bene ringraziamo Monsignor Giulietti e ora diamo la parola al professor Massimo Sargolini docente dell'Università di Camerino qualcuno mi può aiutare qui a caricare il Presidente parla grazie dopo quest'anno non lo posso aspettare ma no prof mi raccomando comunicazione di servizio dopo questi due interventi di adesso faremo una pausa un coffee break e poi riapriremo con la tavola rotonda quindi abbiate pazienza che tra un po' ci prendiamo un po' di pausa allora buon pomeriggio a tutti mi invitano alla rapidità cercherò di essere di stare nei tempi anzi ci starò senz'altro e prendo subito per vederlo il mio contaminuti allora il tema che io affronto è un tema a margine rispetto diciamo all'oggetto che ora è stato sviluppato molto ampiamente e con molta intensità e tendo un po' a sporcarmi le mani nel senso a tentare di capire come questo progetto lauretana può essere utile per lo sviluppo locale e lo sviluppo territoriale il mio compito è di confrontarmi con il territorio questo è il compito che mi è stato dato e lo assolverò in questi nove minuti che mi sono rimasti prima questione purtroppo vedo che è stato inquadrato male c'è un'inquadratura che non è completa ma andiamo avanti comunque la via lauretana noi la andiamo a studiare nel sistema dei cammini europei ora su questo ci sarebbe molto da dire ma io molto è stato detto eccezionale tutte le immagini presentate da Santarelli della presenza della Madonna di Loreto in Europa io vi dico anche che sto partendo per i Monti Tatra in Polonia dove parte il programma Cosme 2014 dove stiamo lavorando per la via di Carol che guarda caso si interseca con la via lauretana qui all'abbadia di Fiastra quindi vedete che c'è molta evoluzione riguardo queste attenzioni e riguardo al sistema dei cammini siamo in cammino rispetto anche ai cammini sui cammini lauretani molti storici si sono espressi non sono uno storico non è mio compito stare a dire dove esattamente qual era la traccia esatta della lauretana ma leggendo gli studi degli storici ho compreso che le vie sono più d'una ho capito che si parla più si deve parlare più precisamente di un sistema di cammini lauretani in questo senso la rete dei percorsi nell'ambito umbro marchigiano vedete essere una rete più che un percorso unico la via lauretana si raccorda quindi con altre reti perché nel tempo e nello spazio si è evoluta si è evoluta nel tempo voi sapete che è stato già detto ne avete già parlato ma è stata da via itinerario commerciale via postale via di pellegrinaggio itinerario del Grand Tour e si è evoluta anche nello spazio evidentemente andando a toccare paesaggi diversi e i paesaggi diversi che qui vedete sintetizzati da un lavoro di alcuni dottori di ricerca dell'Università di Camerino che stanno lavorando su questo tema da tempo vedete che si riescono a individuare da Roma a Loreto diversi paesaggi diverse caratterizzazioni paesaggistiche e ognuna di queste è stata toccata e può essere toccata con diciamo con fecondità dal nuovo cammino dal ripristino di questa rete di cammini e quindi abbiamo sintetizzato giusto per far vedere delle immagini a chi non ha ancora mai percorso queste aree abbiamo sintetizzato un po' il senso dell'attraversamento di molti antichi borghi di spazi boscati di antichi coltivi in prossimità di borghi che si intersecano con spazi anche trasformati quindi in questo caso addirittura acero campestre con la vita vinghiata e sistemi di coltivazioni che fanno pensare a forme molto articolate non sicuramente omogenizzate e standardizzate ma vedremo più avanti anche sistemi oramai trasformati il camminare ha sempre un senso ha sempre un suo valore ha sempre un suo ruolo anche quando si entra in paesaggi profondamente trasformati peraltro su questo tema io stavo lavorando abbiamo appena concluso una ricerca per per alcuni paesi carpatici dove stanno ripristinando un sistema di accessibilità alle aree montane e ovunque si ripete questa evenienza dell'avere la vicinanza tra borghi storici borghi che si mantengono paesaggi naturali che mantengono la loro essenza originaria e spazi più compromessi da recenti espansioni residenziali da recenti spazi produttivi ovunque come vedete in queste immagini molto rapide ha senso continuare a percorrere a camminare a poter attraversare senza immaginare di dover ripristinare in modo vernacolare antichi diciamo realtà oramai perse e la domanda a questo punto che mi pongo però è quale ruolo e senso oggi può avere la via lauretana perché al di là del valore della ricerca storica dell'interesse storico di andare a toccare ripristinare capire comprendere ridare un senso noi dobbiamo anche capire che prospettiva può avere in una visione che qualcuno ha già fatto cenno di attenzione allo sviluppo locale sostenibile ecco allora che vediamo che la rete dei cammini auretani entra nelle reti territoriali di questo bisogna essere molto convinti cioè non possiamo immaginarla avulsa dalla contemporaneità questa rete dei cammini auretani entrerà nella complessità delle reti territoriali della pianificazione della programmazione per lo sviluppo alcune alcune di queste programmazioni sono in linea vicine e sono a supporto altre potrebbero essere contraddittorie quindi ci saranno casi di sincronia di sintonia come è stato detto mi pare proprio all'inizio ma anche casi di asincronia di asintonia e su questo dovremo lavorare l'intersezione della lauretana in particolare è concreto grandi sistemi uno è quello del patrimonio territoriale quindi la diffusione del sistema dei beni culturali e le sue relazioni con il contesto produttivo l'altro è il sistema dei reti ambientali intendendo per reti ambientali il sistema naturale e culturale ecco su questa concezione vorrei che ci fosse una convinzione unanime cioè quando andiamo a parlare di reti ambientali come almeno la regione Marche ha sempre inteso volerle promuovere intendiamo l'ampio sistema delle risorse naturali e culturali in questo senso è stata immaginata questa mappa che mette in relazione il percorso con il sistema delle aree protette delle aree SIC e ZPS di altre aree di grande valore naturalistico oppure in relazione con la rete ecologica regionale che la regione Marche ha già varato in modo pioneristico rispetto ad altre regioni bene questa è un'occasione straordinaria per legare una rete ecologica che ha un valore premiermente ecologico ma anche che dà possibilità di muoversi in modo gradevole in modo lento e sostenibile del territorio con la via lauretana e quindi abbiamo studiato stiamo studiando come la rete lauretana si intersega col sistema delle rete ambientali delle diverse ricchezze e delle diverse risorse che ora ci sarebbe del tempo a disposizione ci vorrebbe ma non ne ho e quindi scorro rapidamente queste sono alcune tratte in cui si studia la lauretana nei rapporti con ville, rocche, abbazia le archeologiche teatri, biblioteche archivi, musei centri raccolta gallerie pinacoteche ma anche aree floristiche parchi eccetera eccetera ecco questo l'abbiamo fatto per tratti diversi tratti e ora vi do solo delle immagini e delle suggestioni non c'è tempo per fare di più voglio tenermi mancano due minuti e quindi mi avvio rapidamente alla fase conclusiva dopo aver visto queste immagini di contatto della rete con il sistema dei beni delle risorse che la rete in qualche modo può valorizzare e che possono in qualche modo reciprocamente fecondarsi oltre che il contatto con il sistema di ricettità alberghiera e stalberghiera ma non abbiamo tempo per approfondire questo spazio ma ecco ci interessa molto invece il rapporto con il sistema della mobilità e quindi qualcuno forse ha evocato già il lento e veloce in questa sala ecco sapete che noi abbiamo lavorato molto nei rapporti tra velocità delle due diverse velocità che sono tutte e due interessanti ma ognuna deve essere calibrata per l'area giusta quindi dobbiamo pensare alte velocità dove è necessario e urge l'alta velocità ma velocità lente che possono permettere di godere di spazi paesaggi e risorse e in questo mirabile intreccio si muove si interseca la lauretana in conclusione il progetto dei cammini lauretani secondo me ha grandi sfide di fronte sfide di tipo territoriale non solo di tipo archivistico di indagine eccetera eccetera la prima è un rapporto tra la frammentazione e la continuità paesaggistica finora abbiamo pensato a paesaggi puntuali isolati ora invece la via lauretana è elemento esso stesso per creare una continuità tra questa frammentazione paesaggistica che purtroppo è devastante rispetto alla qualità complessiva del paesaggio marchigiano rimette in gioco le contraddizioni i conflitti ma anche gli accordi possibili tra risorse e territorio le risorse non sono sganciate dal territorio non esistono i musei sganciati al territorio i musei sono aperti al territorio musei del territorio ne abbiamo parlato più volte anche ricerche tempo fa fatte mi ricordo insieme all'università di macerata e altri ancora quindi questa è l'altra sfida l'altra è urbanizzato e naturale continuiamo a pensare ai confini delle nostre città le città non hanno più confini io recentemente sono stato chiamato dalla comune di Lucca per studiare il piano strutturale di Lucca e il comune di Lucca mi chiedeva di individuare dove finiva la periferia il mio risultato è stato che non c'era un confine alla periferia dobbiamo incominciare a pensare che questa continuità tra urbanizzato e non urbanizzato è una continuità molto significativa dove non c'è iato non c'è soluzione e lì in quella situazione di dispersione che passeranno proprio alcuni dei percorsi a lauretana infine il rapporto tra agricoltura e turismo il nuovo PSR è molto attento su questo la regione Marche è stata pioniera in tante scelte di questo tipo non ha più senso l'agricoltura solamente per la produzione tradizionale che immaginiamo ma nei suoi mille legami con le attività turistiche la lauretana dovrà confrontarsi con questo confronto ritmo lento ritmo veloce e veloce già detto da un lato il public enjoyment la tutela lo studio la ricerca dall'altro gli spazi della logistica le comunicazioni le reti informatiche scambi internazionali le reti globali e infine la fissità e il movimento cioè stiamo passando da una società dei luoghi alla società dei flussi e su questo si muove anche il senso della lauretana c'è un bel libro che non ha nulla a che vedere con pellegrinaggi che è la via dei canti di Bruciatwin che probabilmente conoscete dove appunto mette in gioco il movimento di alcune comunità che ha dei percorsi che sono i percorsi di vita di queste comunità qui c'è una vita reale che è quella del percorso della lauretana che va ripensata in questo suo rapporto intenso tra elementi che mantengono una fissità una permanenza elementi che sono in continua evoluzione e in questo rapporto tra evoluzione cambiamento e fissità rigidità che inevitabilmente alcune parti dovranno mantenere che si gioca il nuovo universo di senso della lauretana grazie grazie professore ora don Mario Lusec che è il direttore dell'ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della conferenza episcopale italiana no la pausa la facciamo dopo il suo intervento il presidente farà le conclusioni di questa prima parte del forum e poi faremo la pausa prego allora in questi ieri oggi in questo susseguirsi di interventi mi sono posto una domanda si sono susseguiti prelati di diverso tipo di diversa sensibilità Don Paolo la cui comunicazione per me è propedeutica quello che aggiungerò ma anche contenutistica per quello che riguarda gli sviluppi e si sono susseguiti anche i tecnici gli operatori del settore allora la domanda era ma che rapporto c'è tra la pastorale e il marketing perché noi uomini di chiesa tra virgolette il nostro agire è un agire pastorale un agire per l'uomo un'attenzione alla persona nella persona vista integralmente totalmente e non disgiunta anche dalle prospettive che la persona cerca quella anche del lavoro ma anche quella del suo benessere e dell'armonia del suo essere allora mi sono posto questa domanda e la risposta ce l'ho non è che ce l'ho da tempo che in fondo in fondo ambedue cercano di lavorare sul desiderio che c'è nell'uomo in ricerca nell'uomo inquieto nell'uomo che vuole camminare appunto quelli della via quelli della strada quelli che se vogliono andare in un luogo in una meta lo vogliono fare con consapevolezza sapendo appunto dove voglio andare perché ci vogliono andare con quale stile e con quale compagnia con quale presenza e questo modo di ragionare mi ha detto sì c'è una compenetrazione tra i due tutti i due lavoriamo su questi desideri è vero che ci sono elementi e Don Paolo forse vi ha un po' terrorizzato quando ha parlato anche di parole inusuali come il disagio ma vedete la sensibilità di stamattina nell'inaugurazione di un eremo mi ha fatto ritornare ad alcuni elementi che noi stiamo mettendo nella pastorale del turismo che sono appunto quelli della via quelli della strada quelli della bellezza e quelli della minorità cioè portare l'itineranza e la minorità francescana in un progetto di turismo e di turismo consapevole responsabile e ci porta a valorizzare alcuni elementi che sono la sobrietà l'essenzialità e questo diventa più piacevole della parola disagio disagio dice fatica la sobrietà in fondo ognuno ha una sua sobrietà e una sua visione sobria o meno sobria della vita però sono elementi che non dicono inferiorità e tantomeno un albergo a quattro stelle ma dicono proprio quale bisogno viene realizzato con quell'essenzialità con quel bisogno cioè il pellegrino ha bisogno di poche cose e l'essenziale è la sua caratteristica questo non è disdicevole nemmeno per il turista consapevole perché anche lui va alla ricerca di questi elementi e li indica con che cosa con fare a meno di quello che non serve quello che appesantisce quello che non lo libera ecco io in questi giorni ho cercato proprio di in questi due giorni non sono finiti di capire soprattutto e di valorizzare anche per il futuro questo metodo questo metodo in cui noi nel nostro agire pastorale mettiamo sul piatto della bilancia elementi che ha detto bene Don Paolo sono in discontinuità con quella che è la ferialità che è la vita di tutti i giorni che sono in discontinuità anche con una visione del turismo prettamente mercantile è vero che nelle antiche vie di pellegrinaggio ci sono andati i pellegrini i mercanti e i briganti però noi dobbiamo fare in modo che anche oggi non sia così che non sia percorribile oltre che da pellegrini anche dai mercanti dai briganti ma dall'uomo dalla persona e questo non significa non significa ripeto che ognuno deve fare la sua parte l'amministratore l'ente pubblico promuovere i territori valorizzarli investire risorse i tecnici organizzarle con tutti quei sistemi che sono stati elencati che sicuramente fare tutte le road map possibili immaginabili perché hanno bisogno di questo però nel mio studio c'è un faldone alto così di proposte di vie che arrivano da tutta Italia quindi attenzione all'estemporaneità la via lauretana va tranquilla perché è una via storica è una via di tradizione ma è anche una via attuale c'è un vissuto c'è una meta che è un punto di riferimento internazionale e quindi va bene ma questo nascere in continuo di iniziative sicuramente non favorisce un equilibrato lavoro anche di orientamento sappiamo anche che il cluster meditazione e spiritualità ha tentato di valorizzare due elementi quello dell'accoglienza e dell'ospitalità nelle foresterie nelle strutture religiose e quello appunto dei cammini ma sappiamo anche che c'è una via della bellezza che attraverso l'arte si manifesta anche attraverso l'arte si può manifestare spiritualità meditazione contemplazione stupore meraviglia e l'arte delle marche stamattina la gentile da Fabriano sono stati citati un infinito Caravaggio abbiamo visto poco fa in quel modo bellissimo e diverso di presentare anche quell'impatto tipico dell'autore dicono molto all'uomo del nostro tempo che sa trovare nella bellezza la risposta ai suoi perché è una strada tracciata è una bellissima strada vi dico che la regione Marche è unica in Italia per questo modo di procedere dicevo nella conferenza stampa che tutte le regioni hanno messo capitoli di interesse sul turismo religioso ma in maniera talmente vaga a volte anche estemporanea qui c'è una progettualità che viene da lontano e mi ha colpito anche il presidente che in questi due giorni è stato dall'inizio alla fine a tutti i momenti intervenendo anche con quella non è da politico perché non è una sviolinata per captare la sua benevolenza perché abbiamo percepito che questo non è soltanto un cluster non è soltanto una promozione ma c'è un amore una passione per questa terra e perché questa terra sia un luogo di scambio di incontro di fraternità e anche di pace grazie ora diamo la parola al governatore al presidente Spacca per le conclusioni di questa prima parte poi vi ricordo che alle 18 inizia il workshop con operatori turistici di 6 paesi nella stanza a fianco buonasera a tutti più che conclusioni sono alcune considerazioni considerazioni che nascono dalle riflessioni che voi avete fatto abbiamo camminato molto in questi giorni Don Mario siamo andati a Fontavellana a Balleremita ora qui a Fiastra a Badia di Fiastra e poi andremo domani a Loreto e quindi abbiamo sposato in pieno quel metodo anche nella costruzione simbolica di questa iniziativa di riflessione quel metodo del pellegrinaggio che veniva evocato come punto fondamentale identitario e caratteristico da il Vescovo di Macerata della fede cristiana credo che questo sia un punto fondamentale rispetto a come costruire le strategie di questo cluster parola complicata del turismo di meditazione spirituale di fede che abbiamo individuato essere uno dei sette cluster attraverso cui sviluppare i turismi della nostra regione ma prima che ora che un'operazione di marketing o di crescita o di sviluppo vorrei sottolineare come detto più volte in questi giorni e lo indicava ora con grande generosità Don Mario Lusec che questa è un'operazione anche rivolta a noi stessi rivolta prevalentemente a noi stessi alla consapevolezza che noi dobbiamo avere di noi stessi della nostra storia della nostra stessa identità di comunità di comunità regionale prima ancora di pensare al turismo pensiamo a questo intreccio che il turismo religioso di fede di meditazione evoca che è la storia della nostra regione abbiamo scoperto in queste due giornate di riflessione cose che non sapevamo padre Frigerio a Fontavellana ci ha detto che in una delle carte di Fontavellana del monastero c'è il documento a cui nasce la mezzadria la mezzadria come strada di fuoriuscita dalla servitù della gleba viene stilizzata e codificata a Fontavellana in una riflessione fatta dai monaci di quell'eremo di quel monastero e la mezzadria è parte sostanziale e integrante della nostra storia della storia di questa regione se noi oggi siamo quello che siamo se la nostra regione ha avuto nel 1900 la tipologia di crescita quella caratteristica di sviluppo quel passaggio dall'agricoltura all'attività produttiva diffusa fatta di artigianato di manifattura è dovuto proprio alla mezzadria lo sappiamo ma non sapevamo che fosse stato un momento di riflessione nato dalla contemplazione dalla riflessione ma che poi è stato tradotto come scelta operativa per rispondere a un'esigenza dell'uomo che era quella appunto di uscire dalla servitù della gleba e abbiamo scoperto tante altre cose alcune le sapevamo già che dalle riflessioni di San Giacomo della Marca sono nati i ponti di vietà per combattere l'usura ma da lì è nata la banca moderna e abbiamo scoperto che nel dibattito tra Domenicani e Francescani è venuta perfino fuori la parola capitale per la prima volta nella letteratura del mondo su questi monti dentro i monasteri si sono fatte delle riflessioni che sono parte integrante veramente della nostra storia allora il primo punto è proprio questo la consapevolezza che noi dobbiamo avere del nostro essere comunità che affonda profondamente le sue radici nella tradizione monastica abbiamo fatto anche altre considerazioni rispetto allo sviluppo della cultura ambientale che ha nei codici presso i monasteri delle fonti inesauribili di riflessioni di approfondimento e anche di possibili declinazioni operative ecco la prima operazione la prima riflessione va indirizzata in questo senso ovvero fare questa tre giorni ma non soltanto questa tre giorni di riflessione costruire questo cluster non significa soltanto fare un'operazione di marketing un'operazione tecnica ma soprattutto recuperare una parte fondamentale importantissima della nostra storia e soprattutto la consapevolezza che attraverso la contemplazione la riflessione il silenzio si può recuperare un'energia che ti può aiutare a affrontare meglio le difficoltà del mondo e a trasformarle anche in soluzioni originali come sono stati originali l'istituto della mezzatria come è stata originale la creazione dei monti di pietà come sono state originali le formule di salvaguardia e di equilibrio e di rapporto con l'ambiente nel periodo in cui sono state interpretate e vissute e poi sì c'è questa sfida perché la cultura ce l'hanno detto gli economisti della conoscenza in realtà non è stata mai vista come un fattore di sviluppo ancora oggi ci sono delle difficoltà a acquisirla come fattore di crescita è vissuta come elemento di fruizione estetica è vissuto come elemento di coesione sociale è vissuto come incremento di capitale sociale è vissuta come maggiore dotazione di capitale umano ma non è vissuta come creatrice di nuove possibilità di crescita di reddito e di occupazione e la sfida che noi lanciamo in questo momento non è di poco conto è proprio questa fare un salto di paradigma utilizzare la cultura nel suo intreccio quindi il distretto culturale evoluto nel suo intreccio con la con il turismo soprattutto nel cluster continuiamo a usare questo termine della fede della spiritualità della meditazione per offrire delle opportunità di nuove di imprenditorialità soprattutto ai giovani che vogliono misurarsi con nuove forme di sviluppo con nuove forme di lavoro con nuove forme di incremento del reddito in questo senso nasce il network dei monasteri degli eremi delle pievi all'interno di questo cluster nasce questa rete che viene offerta attraverso il web attraverso i social network attraverso questa nuova formula viene offerta al al fruitore globale al mercato globale sensibile a questa tematica la rete dei monasteri della nostra regione quindi il cammino dei monasteri francescani o benedettini è quello che viene presentato qui questa sera la via lauretana e non solo la via lauretana ma anche il cammino il sistema dei vari percorsi che da Roma portano all'Oreto da Sisi portano all'Oreto ecco questa è la nostra sfida il nostro desiderio di costruire questi network che poi aiuteranno tante persone da una parte a ritrovare se stessi il loro rapporto con la propria vita ma allo stesso tempo aiuteranno anche la nostra regione la nostra comunità a trovare percorsi di crescita originali e maggiormente rispondenti anche ai bisogni che oggi i ragazzi manifestano l'Oreto e qui concludo è un elemento fondamentale lo ha detto prima Orsetti noi non ci rendiamo conto ma oggi il 25% anzi il 26% del turismo della nostra regione è fatto da turismo religioso l'81% di questo 26% è fatto da stranieri in questo dato c'è un gigante che è costituito dal santuario mariano sicuramente più importante d'Italia forse tra i più importanti d'Europa ma qui litighiamo con i francesi litighiamo con i portoghesi litighiamo con i polacchi con Cesto Cova però di fatto ce l'ha dimostrato padre Santarelli questa presenza è assolutamente importante perfino Cristoforo Colombo quando è andato in America c'aveva una caravella che si chiamava Santa Maria di Loreto quindi è chiaro che l'evocazione che c'è intorno a questa immagine per la suggestione che che trasmette è fortissima è straordinaria e noi dobbiamo far sì che questi 4 milioni di cittadini di persone che ogni anno vengono a Loreto in qualche modo siano maggiormente integrati con il nostro territorio e da questo punto di vista la strategia che è stata messa in atto con il cammino lauretano con la via lauretana ma anche con gli altri cammini con quello francescano con quello benedettino può aiutarci a farlo ma ci aiuterà ancora di più la consapevolezza e l'acquisizione della consapevolezza che stiamo facendo nient'altro che un'operazione di riappropriazione di quella che è la nostra storia una riappropriazione di quelli che sono i valori profondi della nostra storia e quindi di recupero di quell'energia che oggi ci manca e che molto spesso ci impigrisce di fronte alle difficoltà che sono innanzi a noi e questo credo che sia il valore più profondo di questa operazione grazie a tutti per la vostra presenza grazie